Appello alla Nazione del Dedalo Minos Cinema. Buongiorno, io sono Stil della Casa e ho avuto l'onore di essere un partecipante di questa giuria che darà il premio Dedalo Minos Cinema. Credo che sarà una giuria che dovrà muoversi in un vero e proprio labirinto e del resto il nome del premio un po' indica questa situazione, perché il rapporto tra architettura e cinema è un rapporto che dura per tutta la storia del cinema, quindi un rapporto trasversale. Del resto Giuseppe Bertolucci definisce il cinema l'arte delle arti, perché è un'arte nella quale convergono la fotografia, la letteratura, la recitazione, il teatro e anche l'architettura. Anche l'architetto è un organizzatore di tanti saperi e di tante professionalità che convergono per la realizzazione di un'opera. Noi dovremmo giudicare i film dell'ultimo biennio e dovremmo capire qual è quello che meglio racconta questo rapporto che, come dicevo, attraversa tutta la storia del cinema. Quindi noi dovremmo avere uno sguardo molto attento, uno sguardo inedito, ma uno sguardo necessario, perché il cinema deve molto a quello che è stato il lavoro degli architetti, cioè senza la consulenza, senza la bravura, senza la professionalità degli architetti molti film non sarebbero stati fatti, altri film sarebbero stati decisamente meno importanti, meno belli, meno riusciti. Sarà un compito abbastanza difficile, ma sono sicuro che ce la metteremo tutta, del resto le professionalità delle persone che fanno parte di questa giuria è decisamente alta, saranno sensibilità diverse che convergeranno, le sensibilità diverse sono quelle che di solito fanno sì che il prodotto riesca meglio e sono sicuro che anche in questo caso sarà così. In ogni caso ci vedremo tra qualche mese, avremo fatto il nostro lavoro e voi giudicherete se l'abbiamo fatto bene.